Lorenzo Savadore ci dà un'opinione per Motoblog sulle nuove gomme di Continental Ciao a tutti, siamo venuti qui a provare le nuove gomme, le nuove Continental e diciamo che secondo me sono delle gomme ottime c'è la gomma Sport, è una gomma che secondo me è un filino più maneggevole rispetto a quella Endurance e dà anche un filino più di fiducia soprattutto in ingresso curva l'Endurance invece è una gomma che, lo dice anche il nome, dura di più e soprattutto quando finisce, quando inizia a consumarsi un pochino di più, ha quasi più grip che all'inizio queste sono gomme da strada e la differenza grossa tra le gomme in mescola che sei abituato ad usare c'è però che cosa ti senti di dire a chi deve usare questo tipo di pneumatico su una strada normale non necessariamente in pista? Ah, senz'altro è un pneumatico che va benissimo perché noi lo stiamo provando in pista e stiamo andando forte per strada innanzitutto bisogna andare anche un po' più piano però ottimo materiale secondo me Quindi ne comprerai due treni? Anche tre Anche tre